Tonificazione total body con esercizi senza salti di facile esecuzione. Alterniamo esercizi ad alta sollecitazione muscolare ad esercizi cardio a bassa intensità. Iniziamo! Ok, iniziamo riscaldamento pre-workout. Tocco spalle e allungo le braccia. Inizio subito con la respirazione naso-bocca. Facciamo un ottimo riscaldamento prima di iniziare questo workout. 5, 4, 3, 2, 1. Incrocio braccia orizzontali. Movimento ampio. Allargo bene. Incrocio sopra e incrocio sotto. Inizio con la respirazione naso e bocca. Scaldiamo tutta la parte alta, la parte bassa e l'addome prima di partire. 5, 4, 3, 2, 1. Skip alto più rotazione oraria. Separo bene due movimenti. Salgo in skip. Movimento orario della spalla. Scaldiamo bene sia la parte bassa che la parte alta. Vai! Vai! 5, 4, 3, 2, 1. Circonduzione braccia. Movimenti ampi, aperti. Scaldiamo bene le spalle, le braccia. Riattiviamo il corpo prima del workout. Respira naso e bocca. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Skip alto più rotazione anti-oraria questa volta. Salgo bene con le ginocchia. Rotazione anti-orario. Vai! Separa bene i due movimenti. Respira. Segui la velocità del video. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Circonduzione braccia. In avanti. Scaldiamo bene tutta la parte alta. Tutta la parte bassa. È molto importante il riscaldamento pre-workout. Respira. 5, 4, 3, 2, 1. Passiamo alla parte bassa. Calciata i glutei. Iniziamo ad attivare la parte bassa del corpo. Aumentiamo un pochino la velocità. 10 secondi. Salgo bene in calciata. Vado dietro. Su, su, su. 5, 4, 3, 2, 1. Mezzo squat. Iniziamo ad attivare le gambe, i glutei, i quadricipite. Vai! Su, su. Utilizzo le braccia in ogni movimento per stabilità e performance dell'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1. Spinta ad una gamba. Mezzo squat. Spinta. Mezzo squat. Spinta. Addome contratto. Respirazione attiva. Mezzo squat. Spinta. Mezzo squat. E piccola spinta. Mantieni. Mantieni. 3, 2, 1. Mezzo squat. Spinta. Mezzo squat. Spinta. Vai. Vai. Il movimento è corto sia in mezzo squat che spinta. Mantieni. Vai. Sincronizza il movimento con le braccia. 5, 4, 3, 2, 1. Torsione gomito ginocchio. Solo da un lato. Scegli un lato. Cerca di avvicinare il più possibile il gomito al ginocchio. Butto fuori l'aria in fase di chiusura. Vado sulla punta. E molleggio. Chiudo. Apro. Chiudo. Appo. 3, 2, 1. Cambio. Dall'altra parte. Torsione gomito ginocchio. Cerco di avvicinare il più possibile il gomito al ginocchio. Butto fuori l'aria. Molleggio bene sulla gamba. 10 secondi. Mantieni il movimento. Attiviamo bene addome. Parte alta e parte bassa. 3, 2, 1. E cambio. Step touch. Movimenti a destra e a sinistra. Attiviamo le braccia. Reattivi. 3, 2, 1. Vai. Skip più slancio alternato. Sali col ginocchio. 1, 2. E vado in skip. 1, 2. Su. Su. Avanti. Avanti. Su. Su. Avanti. Avanti. Respirazione attiva. Mantengo il movimento. 3, 2, 1. Step touch. Destra e sinistra. Sempre reattivo. Muoviamo sempre le braccia. 3, 2, 1. Discesa frontale. Più doppio calcio. Vai. Scendo bene. E vado in doppio calcio. Separo bene i movimenti. Respiro. Salgo. Doppio calcio. Tocchiamo la punta del piede in doppio calcio. Vado giù. Tocco la punta su. Tocco la punta su. 3, 2, 1. Step touch. Respira. Respira. Manteniamo sempre il ritmo. Passiamo a passo incrociato indietro. 3, 2, 1. Vai. Passo incrociato indietro. Andiamo con un movimento fluido. Utilizziamo le braccia nel movimento. Senza salto. Passo indietro. Passo indietro. Passo indietro. Mantieni il ritmo. Respira. 5, 4, 3, 2, 1. Step touch. Respira. Esercizio successivo. Skip alto più tocco i talloni. Tra 3, 2, 1. Vai. Skip alto. E tocco i talloni. Movimento ampio delle braccia. Tocco sotto. Alzo bene il ginocchio. Respira. Testa dritta. Respirazione sempre attiva. 5, 4, 3, 2, 1. E cambio in step touch. Reattivi. Rimaniamo reattivi. Ci prepariamo allo squat. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Squat completo. Scendo bene. Scendo bene. Utilizzo le braccia nel movimento. Controllo l'addome. Respirazione sempre attiva. È uno squat pieno. Non un mezzo squat. Vai. Scendi bene. 3, 2, 1. Cambio. Step touch. Respira. Passiamo al V-step. Tra 5, 4, 3, 2, 1. Vai. V-step. Sono due passi aperti in avanti. Due passi dietro. Lavoriamo sulle braccia. Apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo. Muovi le braccia. Sincronizza bene il movimento. Due passi aperti in avanti. Due passi chiusi indietro. 2, 1. Torniamo a step touch. Respira. Riprendi fiato. Passiamo al mezzo squat. Tra 3, 2, 1. Mezzo squat. Mezzo squat. Non è uno squat pieno. Quindi è uno squat a metà. Veloce. Rapido. Approfitta per respirare. Prendi fiato. Mantieni il movimento. Non rallentare il ritmo. Mantieni questo ritmo. Segui il video. 5, 4, 3, 2, 1. Step touch. Respira. Passiamo al passo incrociato indietro. Tra 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Passo incrociato indietro. Senza salto. Lavora bene sulle braccia. Lavora bene sull'addome e sulle gambe. Incrocia vai dietro. Incrocia vai dietro. Tocca la punta dietro. Rimani reattivo. Vai. Su. 5, 4, 3, 2, 1. Step touch. Prendi fiato. Ritorniamo allo squat. Squat pieno. Tra 3, 2, 1. Vai. Allargo le gambe. Allargo le punte. Scendo. Gluteo in linea con le ginocchia. Vado giù. Su. Ginocchio non supera la punta del piede. Utilizzo le braccia per la stabilità e la performance del movimento. Vai. Su. 5, continua. 4, 3, 2, 1. Recupera i 10 secondi. Respira. Andiamo giù a terra. Ci prepariamo per il plank isometrico. 3, 2, 1. Vai. Posizione del plank. Corpo in linea. Braccia tese. Addome e glutei contratti. Manteniamo la posizione del plank. Lavoriamo su addome lombari. Respira. Non rimanere in apnea. 3, 2, 1. Recupera i 10 secondi. Ripartiamo con affondo indietro alternato. Lavoriamo su gambe e glutei. 3, 2, 1. Vai. Affondo indietro alternato. Scendo bene. Il ginocchio sfiora a terra. Non serve toccare a terra col ginocchio. Risalgo. Reattivo. Utilizzo le braccia per la mia stabilità. Addome contratto. Testa dritta. Non perdere l'equilibrio. E mantieni il movimento. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Respira. Ripartiamo con pugno incrociato. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Mezzo squat. Lavoro con le braccia a destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Piego leggermente le gambe. Pugni veloci a destra e a sinistra. Respiro. Addome contratto. 5, 4, 3, 2, 1. Riprendi fiato. Andiamo giù a terra. Push up. Ginocchio a terra. Tra 5, 4, 3, 2, 1. Ti sdrai completamente. Sali con le braccia. Non inarco la schiena. Non inarco la schiena. Ginocchio giù. Addome contratto. Lavora solo sulle braccia. Non inarcare la schiena. Mantieni il ritmo. Butto fuori l'aria quando vengo su. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. 5, 4, 3, 2, 1. Subito in plank. Posizione del plank. Addome contratto. Gluteo contratto. Bracce tese in linea con le spalle. Respira. Non rimanere in apnea. 10 secondi. Mantieni l'isometria. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero. Ripartiamo con affondo indietro alternato. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Affondo indietro. Scendo indietro. Il ginocchio sfiora il pavimento. Utilizzo le braccia che mi aiutano a mantenere la stabilità. Addome contratto. Testa dritta. Mantieni il ritmo. Non rallentare. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Ripartiamo con pugno incrociato. Lavora bene sulle gambe e sull'addome. 3, 2, 1. Vai. Gambe leggermente piegate. Sposto la gamba dietro e pugno. Sposto la gamba dietro e in pugno. Reattivo. Vai. A destra e a sinistra. Respira. Butta fuori l'aria. Addome contratto. Pugno veloce. Rapido. Vai. 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 3, 2, 1. Recupera. Ripartiamo. Push up. Ginocchio a terra. Andiamo giù. 5, 4, 3, 2, 1. Ginocchio a terra. Salgo. Non inarco la schiena. Addome contratto. Respiro. Non inarcare la schiena. Mantieni il ritmo. Scendo. Tocco terra e risalgo. Scendo. Tocco terra e risalgo. Resisti. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Ripartiamo con lo squat. Squat pieno. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Allarga le gambe. Allarga la punta dei piedi. 30 gradi. E andiamo giù. Vai. Vai. Scendi con il gluteo in linea. Col ginocchio. Il ginocchio non supera la punta del piede. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. E cambio. Step touch. Respira. Respira. Riprendi fiato. Passiamo al pugno incrociato. Rapido, veloce, agile. 3, 2, 1. Vamos. Pugno incrociato. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Sposta il peso del corpo. Sposta la gamba. Addome contratto. Butta fuori l'aria. 10 secondi. Mantieni. Non ti fermare. Respira. Pugno. Respira. Pugno. 5, 4, 3, 2, 1. Step touch. Recupera. Riprendi fiato. Ripartiamo con lo skip incrociato. 3, 2, 1. Vai con lo skip incrociato. Salgo a destra e salgo a sinistra. Salgo con il ginocchio. Posso toccarlo con le mani. Movimento reattivo. Continuo. Su, su, su. Addome contratto. Testa dritta. 5, 4, 3, 2, 1. Step touch. Respiro. Piccoli passetti a destra e a sinistra. Passiamo. Torsione. 1, 2, 3. Pugno. 2, 1. Cambio. Torsione. 1, 2, 3. Pugno. Posizione di mezzo squat. Torsione pugno. Torsione pugno. Mantengo la velocità del movimento. Addome contratto. Gambe leggermente piegate. In mezzo squat. Vai. Pugno a destra e a sinistra. Pugno. 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 3, 2, 1. Ottimo. Breve recupero. Riprendo il fiato. Ginocchio su. Una gamba. 5, 4, 3, 2, 1. Vado col movimento. Salgo col ginocchio. Pam. 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 Tocco la punta e salgo. Movimento reattivo. Veloce. Con l'altra gamba la tengo piegata. per molleggiare sul movimento. Lavoro sulle braccia. Sincronizza il lavoro sulle braccia. 3, 2, 1. E faccio il cambio veloce. Dall'altra parte molleggio sulla gamba statica. Tocco la punta dall'altra parte. Lavoro sul braccio. Vai. Salgo. 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 Respiro. Addome contratto. Vai. Mantieni il movimento. 5, 4, 3, 2, 1. Step touch. Sciogli un attimo. Respira. Ripartiamo con slancio avanti più ginocchio su. Tra 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Slancio avanti e ginocchio su. Separa bene i due movimenti. Utilizza le braccia sia nel tocco della punta dello slancio ma anche dietro per la stabilità del movimento. Vai. Addome contratto. Su. Ginocchio. Slancio. Ginocchio. Slancio. 3, 2, 1. E cambio subito. Ginocchio. Slancio. Ginocchio. Slancio. Addome contratto. Bari centro in avanti. Respirazione attiva. 10 secondi. Resisti. Non ti fermare. Non rallentare. Mantieni il ritmo. 3, 2, 1. Ok. 20 secondi di recupero. 20 secondi di recupero. Passiamo alla respirazione. Andiamo a respirare e a scaricare il lavoro fatto. Tra 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Iniziamo la fase di respirazione. Post workout. Respiro. Prendo aria col naso. Inspiro col naso. Scendo giù ed espiro con la bocca. Riempio i polmoni. Riprendo bene ossigeno. E butto fuori. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Mobilizzazione della schiena. Inarco la schiena. In fuori e in dentro. Movimento lento. Controllato. Il colo segue il movimento. Salgo. Guardo in alto. Chiudo. Guardo in basso. 3, 2, 1. Cambio. Allungamento sul fianco. Scelgo un lato. Scendo piano piano senza forzare. Il braccio sopra la testa. La mano sul fianco. Mantengo l'allungamento senza forzare. 3, 2, 1. Piano piano dall'altra parte. Movimenti sempre lenti e controllati. Torsione. Mantengo la torsione. Mantengo sempre la respirazione attiva. Non vado a forzare la torsione. 5, 4, 3, 2, 1. Stretching ad una gamba. Scegli una gamba. Vieni su. Utilizza il braccio per la stabilità e per mantenere la posizione. Prendi bene il piede. Mantieni la posizione e respira. Rimani in stretching. 5, 4, 3, 2, 1. Piano piano. L'altra gamba. Prendi bene il piede. Utilizza il braccio. Fissa un punto se ti aiuta per mantenere la posizione. E rimani. Rimani in posizione. Respira. 5, 4, 3, 2, 1. Stretching spalla. Scegli una spalla. Allungo bene il braccio. Mano sul gomito. Leggera pressione senza forzare. 10 secondi. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio braccio. Cambio spalla. Dall'altra parte. Braccio teso. Mano sul gomito. Leggera pressione. Mantengo la posizione senza forzare. 5, 4, 3, 2, 1. Divaricata frontale. Andiamo giù. Piano piano. Allarghiamo le gambe. Scendiamo piano piano piano. Proviamo a toccare terra. Se non tocchiamo terra non importa. Dove arriviamo. E manteniamo lo stretching. Allunghiamo bene le gambe. Allunghiamo bene la parte dietro. 3, 2, 1. Risalgo piano piano. Ok. Il nostro workout è finito. Ci vediamo al prossimo allenamento. Vamos. Allunghiamo. 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 Allunghiamo.